La malattia aterosclerotica coronarica è la subestrata anatomopatologico che sottende tutte le principali manifestazioni cliniche della cardiopatia ischemica, l'angina, l'infarto, la morte improvvisa coronarica. Qual è la causa quindi della aterosclerosi coronarica? Come si può inquadrare da un punto di vista patogenetico? Oggi il concetto così ormai consolidato è che la malattia coronarica, una malattia complessa, è il risultato dell'interazione tra fattori patogenetici ambientali e suscettibilità genetica. Suscettibilità genetica è la nostra modalità di risposta a questi fattori patogenetici ambientali, volgarmente chiamati fattori di rischio. Quali sono? In primo luogo i livelli di colesterolo e in particolare il colesterolo ossidato. Al secondo posto c'è il fumo, al terzo il diabete, al quarto l'ipertensione, al quinto l'obesità. Hanno invece un fattore protettivo in base ai dati epidemiologici, il consumo giornaliero di frutta e verdura, l'attività fisica e un moderato consumo di alcol. Quindi noi dobbiamo vedere come intervenire sulla prevenzione. È chiaro, possiamo intervenire sulla genetica? Sì, possiamo intervenire anche su quella, nel senso che i fattori patogenetici ambientali possono determinare il livello di funzionamento anche di un gene. Quindi se noi abbassiamo i livelli del substrato, ad esempio del colesterolo, il recettore che deve capitare il colesterolo funziona di meno. Quindi noi dobbiamo focalizzarci su tutte quelle misure che sono in grado di abbassare il colesterolo. Sconsigliare il fumo o nei pazienti, nei soggetti, che comunque non hanno nessuna intenzione, non riusciamo a far smettere, penso che non sia da stigmatizzare qualsiasi tentativo che porti a una modalità di minore danno da parte del fumo di sigarette. Cioè tutte quelle metodiche che rendono il fumo, come lo possono rendere? Il fumo è dannoso per le nostre coronarie perché è il più importante fornitori di radicali liberi che trasformano il colesterolo LDL nel colesterolo OXLDL che è quello che è dannoso per le pareti delle arterie. Quindi se noi con qualsiasi metodo riusciamo a ridurre questi radicali liberi sicuramente noi facciamo nei pazienti a cui a tutti dobbiamo sconsigliare di fumare. A terzo posto c'è il diabete, dobbiamo consigliare uno stile di vita che riduca quella incidenza di una malattia che sta diventando l'epidemia del prossimo secolo. Di questo secolo ci sono dei dati così allarmanti. Il peggio credo che sia ancora da venire, come diceva un editoriale di Cron de L'Enfant, il peggio è ancora da venire per quanto riguarda l'incidenza del diabete sulle malattie cardiovascolari. Poi l'ipertensione, quindi anche questo lo stile di vita può influire in modo significativo. Poi l'attività fisica, il consumo giornaliero di frutto e verdura, tutte delle situazioni di stile di vita che noi dobbiamo sicuramente consigliare.